Bella a tutti ragazzi, so che molti di voi aspettavano finalmente il video dei big player all'interno dei miei video di biglie, ovvero dei grandi furgoncini, ce ne ho qui subito uno da mostrarvi, uno dei miei preferiti, eccolo qui. Andiamo a vederli uno ad uno e vediamo le caratteristiche che questi furgoni devono avere per essere acquistati. Prendi tutto, ovviamente questo che ce l'ho già in mano ha uno scomparto fighissimo all'interno dove ci stanno un sacco di biglie, più ce ne stanno meglio è, più possono scorrere all'interno della pista, più sono attrattive a livello visivo e soprattutto anche a livello sonoro. Come vedete questo è un altro furgoncino, anche questo ha tanto spazio. Questo ne ha un po' di meno ma comunque suona. Suona e quindi ha un punto favore, anche questo qui suona. Sono tutti punti favore e questo fa parte sempre di un altro, della stessa linea e suona. Spazio gigante, ribalta, colori fantastici perché rosso e giallo sono colori fantastici. Un corriere express, chiaramente voi lo vedete al contrario ma è molto ben fatto, anche questo ha uno spazio mega figo all'interno. Un altro video con tantissimo spazio, anche questo suona, anche se si era mezzo rotto l'ultima volta. Un altro furgone arancione, pazzesco anche questo, anche questo con la ribalta e il suono. Vediamo se riesco a farlo partire, ora non smetto più. Mentre suona ancora le ultime due ruspette gialla e blu. Chiaramente io prediligo il blu ma questi sono i super big player dei miei video, diciamo i protagonisti. Eccoli qua. Da dietro sono quelli piccoli, le biglie e tutto quanto. Tutto il set è qui ed è... Grazie. Grazie.